Benvenuti ad Halloween, Halloween! Ma siamo proprio sicuri di voler fare dolcetto scherzetto in questa casa? Ma certo! Cosa vuoi che succeda? A me sembra un posto così carino. E poi ricorda, grande portone significa grande cesta delle caramelle. Io ancora non ho capito perché siamo vestiti così. Te l'ho detto mille volte, perché è Halloween! Ed è una festa stupenda dove puoi metterti in maschera, fare gli scherzi e soprattutto mangiare tantissimi dolcetti. Sì, ma questo posto è davvero spettrale, eh? Sofì ha ragione. Sento che c'è qualcosa di molto strano. Non vi preoccupate, ci penso io. Dolcetto scherzetto! Scherzetto! Dolcetto scherzetto! Dolcetto scherzetto! Me contro te il film! Vacanze in Transilvania! Dal 19 ottobre al cinema!